A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per la pagina sportiva del TG Noe. Apriamo con il calcio e con la lucchese che prepara il rush finale, almeno per quanto riguarda l'anno solare 2016. Ne manca solo una alla fine del girone di andata, ma ancora tre alla conclusione del 2016. Visto che per la prima volta da qualche anno a questa parte si giocherà a ridosso di Natale di Capodanno. Poche occasioni dunque di rilassarsi anche per la lucchese che ha ripreso la preparazione all'acquedotto, dove la truppa svernerà per gran parte della settimana, tranne la rifinitura di sabato al Porta Elisa. All'orizzonte incombe la gara interna di domenica prossima, ore 16.30, contro il Gian e Arminio. Formazione Lombarda gioca le sue gare interne a Gorgonzola, che se non ricordiamo male incrocerà per la prima volta il proprio destino con quello della Pantera. Pantera che Galderisi cita spesso nelle sue interviste e che vorrebbe graffiante e determinata anche nella gara che chiuderà il girone di andata. Attualmente la lucchese a 28 punti sarebbero stati 29 sul campo e girare obiettivamente a quota 31 dopo quell'avvio un po' così non sarebbe malaccio. Anzi, una proiezione di 60 punti o giù di lì che garantirebbero il playoff in carrozza e col sigaro in bocca. Contro il Gian si profila una lucchese tipo, perlomeno impergnata su quella che sono le maggiori certezze, che hanno consentito di inanellare ben 9 risultati utili consecutivi con 5 vittorie e 4 pareggi. Detto che Martinez è di nuovo ai box, al pari di Bagatini, è quasi scontato rientro di Especie in difesa e di Mingazzini in mediana. Per il resto il tridente d'attacco dovrebbe tornare quello titolare con De Feu e l'ambitissimo sul mercato Terrani a sostegno del bomber forte, che dopo aver toccato quota 13 a Carrara vorrebbe ancora migliorare la sua posizione di vice capocannoniere del campionato. Gonzales dell'Alessandria è avvisato. Importante e significativa iniziativa del sindaco Alessandro Tambellini in merito alla difficile situazione societaria della lucchese calcio. Il primo cittadino di Lucca, che qui vediamo in una foto di repertorio al fianco del presidente Bacci ad assistere ad una partita della lucchese, dicevo Tambellini ha infatti deciso di convocare i colleghi della Piana per fare una verifica circa le possibilità di trovare una soluzione all'intricata vicenda della Pantera. I sindaci convocati sono Luca Menesini di Capannori, Alberto Baccini di Porcari, Sara D'Ambrosio di Alto Pascio e Vittorio Fantozio di Monte Carlo. L'incontro si svolgerà mercoledì prossimo, 21 dicembre, alle ore 17.30 a Palazzo Orsetti. Quarto centro consecutivo per Gilali Jamali del gruppo podistico Parco Alpiapuane, che ottiene due belle vittorie in soli tre giorni. Il marocchino in maglia bianco-verde ha vinto infatti la sesta mezza maratona città di San Mignato e tre giorni dopo si è ripetuto a Montecatini Terme nella corsa del Babbo Natale. Il basket Giuliano Biancani interrompe il suo rapporto con il BAM Alto Pascio. Ad inizio settimana la guardia cecinese ha comunicato che in seguito ad una recente apertura di un'attività commerciale non poteva più sobbarcarsi quattro trasferte settimanali in direzione del paese del Tau. Una grossa perdita per il team altopascese che non sarà facile sopperire, almeno nell'immediato, visto l'indiscusso valore del giocatore. Biancani, ormai ex Alto Pascio, farà parte e giocherà nel basket Cecina in Serie B. Il pugile elite Steven Castillo della Box Stiava si è giudicato alla medaglia di bronze ai campionati italiani assoluti di categoria svolti sia a Bergamo. Risultati incoraggianti per la società versiliese che premiano l'impegno di tutti e rafforzano la volontà di proseguire sulla strada intrapresa. Intanto un'altra notizia, in questo caso meno positiva, il peso massimo Fabio Piazza dopo aver sostenuto due match vittoriosi da professionista è incappato in un grave infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico ed un periodo di sosta forzata. Naturalmente un grosso in bocca al lupo al bravo Fabio Piazza. Siamo ai motori, ci avviciniamo ormai a grandi passi verso il 25esimo rally del Ciocchetto. Vediamo il servizio che ci parla di questo importante appuntamento motoristico. Nel 2015 finì così col trionfo di Rudy Michelini. Nel 2016 si profila un rally del Ciocchetto coi fiocchi, non quelli di neve che non sono previsti. Le previsioni meteo annunciano bel tempo per tutto il weekend, ma per l'altissima qualità degli attesi protagonisti. Tanti bei nomi del rallismo tricolore anche internazionale per dare lustro da venerdì a domenica all'edizione numero 25 di un grande classico, il Ciocchetto Rally Event, che quest'anno si arricchirà anche dello spettacolare Master del Ciocchetto nella domenica pomeriggio. Con i navigatori a caccia dell'Ambito, importante trofeo alla memoria di Icio Perissinot, indimenticato creatore del Ciocchetto e pezzo importante della storia rallistica italiana. Un ricordo vivo nel tempo che si unisce a quello di Guelfo Marcucci, scomparso un anno fa, e a sua volta ideatore del Rally del Ciocchio e della Valle del Serchio, che anche a marzo aprirà il campionato italiano 2017. Tra i 75 iscritti, limite assai vicino al massimo di 80 partenti, spiccano ben 10 equipaggi top, tutti al via con vetture di categoria R5, potenti e agili nelle stradine all'interno della tenuta del Ciocco, e tutti con buone possibilità di inserirsi nella lotta all'attico della classifica. Uomo da battere sarà Paolo Andreucci, nove volte campione italiano rally, e carico e contento di tornare dopo qualche anno a gareggiare al Ciocchetto, vinto due volte in passato, stavolta insieme ad Anna Andreussi e con la Peugeot 208 T16 delle tante vittorie. A rendergli dura la vita, piloti del calibro di Max Rendina, Santoni, Michelini, Ciuffi, che porterà il debutto la Hyundai, Dati, Ciava, Locale, Gistovanni, Maestrini e padrone di casa Andrea Marcucci, che un anno fa salì sul podio. Strepitoso successo del pattinaggio acquario a Topascio, che si è giudicato la Coppa Italia a Campiglia Marittima, con 22 medaglie conquistate, di cui 8 ori, una conferma per la società altopascese, che negli anni si è affermata come punto di riferimento per il pattinaggio, e che ha ottenuto il titolo di campione italiano per il secondo anno consecutivo. Ginnastica ritmica, motto sul tetto d'Italia, il torneo nazionale allievi di ginnastica che si è svolto ad Arezzo, la società Via Regina si è imposta in ben tre specialità, Carola Quarto è salita sul gradino più alto del podio, alle fune e alle clavette, e Sofia Sicignano alla palla con esibizioni, che hanno sbalordito la giuria. Il Consiglio Toscano della Federazione Italiana Canoa e Cajacca, una nuova guida durante l'assemblea che si è tenuta a Massarosa, è stato eletto alla presidenza Leonardo Di Sacco, lo vedete in questa foto, già vicepresidente del Consiglio regionale, presidente dell'Associazione Sportiva Mai Dire Mai, Canoa Cajacca di Lucca. Di Sacco è il primo lucchese a guidare il comitato regionale, porterà in Consiglio federale il bagaglio di esperienze maturate sia a livello organizzativo che come atleta e tecnico, a lui il più grosso in bocca al lupo da parte di tutta la redazione sportiva del TG Noi. Ed è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva, io vi ringrazio per l'ascolto, dopo una breve pausa il TG prosegue con la terza ed ultima parte.